Buongiorno signori! Aveline! Ne è passato di tempo! Troppo! Sentite, avete notato attività insolite nella palude? Oltre alle nostre, intendi? Abbiamo notato un mucchio di uomini spagnoli in uniforme. Anche se dubito tanto della loro virilità quanto della loro lealtà. Sono stati assoldati da un certo Vasquez. Lavora per... Vasquez? Santi, Numi, Sochie! I soldati parlano di lui. Vuole dirottare una nave da carico domani. A meno che lo facciamo prima noi. Aveline ti adoro. Non te lo dico sempre, Elise. Altro che se la adoro. Io ho una gran voglia di divertirmi. Se posso suggerire un posto, il faro sul lago Pontchartrain. Se tu l'umanomentessi, credo che la nave non arriverebbe a destinazione. Roussia, Anna, io ti adoro. Non te lo dico sempre, Elise. Altro che se lo adoro. Non te lo dico sempre, non te lo dico. Anche ti adoro. Anche ti adoro. Sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti